Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Belen Rodriguez si è mostrata nelle storie con una scollatura che lascia vedere tutto Ecco la reazione di Giulia Stabile.Belen Rodriguez è una showgirl argentina che grazie alla sua presenza nella televisione italiana è diventata una delle conduttrici più amate e apprezzata Belen, il seno messo in evidenza della storia.La donna attualmente è legata al suo ex marito Stefano De Martino con il quale è stata sposata dal 2013 al 2017 per poi tornare assieme nel 2020 e lasciarsi dopo qualche mese di ritorno di fiamma I due, si sono riavvicinati dopo che Belen ha partorito al sua seconda figlia Luna Maria Vuta con Antonino Spinalbese, hair stylist in lista per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello VIP Sembra che la fiamma della passione tra Belen e Stefano non si sia mai affievolita nonostante nei loro anni di allontanamento ognuno ha avuto delle relazioni diverse per poi tornare assieme In questi giorni Belen e Stefano hanno indossato nuovamente la fede del loro matrimonio, come dimostrazione che il loro amore è più vivo che mai Addirittura la showgirl ha pubblicato una storia con suscritto e mio marito Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao! Ciao! Ciao!